Per i lavoratori di Solzonica ancora nessuna novità sul loro futuro. Dopo l'incontro al Ministero e quello in Regione, ora la decisione spetta di nuovo al Tribunale, che dovrà decidere se dal prossimo 3 aprile i lavoratori hanno diritto alla Cassa Integrazione Enderoga, come ha spiegato Giuseppe Ricci della CISL. Sì, ieri si è svolto l'incontro in Regione con gli organi della procedura di Solzonica e alla presenza anche dell'amministratore delegato di Solzonica, l'ingegner Mutti. Ieri si è cercato, di concerto con la Regione, di smarcare tutti gli argomenti che possano permettere al giudice di prendere la decisione di attivare la Cassa Enderoga. Per noi ci sono i presupposti, la normativa lo prevede, quindi nelle prossime ore il giudice sarà chiamato a decidere su questo strumento. Noi pensiamo che ci sono le condizioni e per questo ci aspettiamo ad ore delle novità. I prossimi incontri per la vertenza Solzonica sono fissati per il 31 marzo al Ministero dello Sviluppo Economico e in Regione. È stato convocato anche il tavolo, il 31, al Ministero dello Sviluppo Economico per affrontare la cosa ancora più importante che è quella del piano industriale di Gala e ci confronteremo anche a quel tavolo rispetto al piano industriale che per noi deve prevedere la rioccupazione di tutti i lavoratori. Contemporaneamente il 31 abbiamo sempre presso la Regione Lazio l'incontro sulla Cassa Integrazione per poter redigere un accordo. Noi speriamo che arrivare a questi appuntamenti importanti togliendo di mezzo l'argomento dei licenziamenti sia una cosa importante e quindi nelle prossime ore ci aggiorneremo. Grazie. 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 Grazie.